E si prosegue per questo bellissimo viaggio on the road, Calabria-Basilicata-Campania. Godi popolo! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Abbiamo salutati i carabinieri e proseguiamo per Casal Velino, Marina di Casal Velino dopo Sabri. Vediamo i amici motociclisti! Guardate che bello! Guardate che spettacolo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.